Se sono tutti con una pezzatura abbastanza uniforme, si cuociano in maniera uniforme, perché tu devi farle bruciare bene all'inizio, con una fiammata che la buccia si deve bruciare, perché scoppiano, infatti quelle che non bruciano bene scoppiano poi, sentirei delle botte incredibili. Poi è importante lasciarle almeno 10 minuti, un quarto d'ora, poi sulla braccia, diciamo a Maserat, come si dice, che finiscono proprio la cottura senza bruciare.